Un pomeriggio dedicato alla bellezza femminile, quello del prossimo 19 luglio a partire dalle 17, dove 20 giovanissime ragazze spileranno nella suggestiva location del sud brindisino Kalidowski presso Campo di Mare di San Pietro Vernotico, dove sarà nominata la rappresentante che accederà, insieme alle altre 5 classificate, alla finale predisposta nel prestigioso villaggio turistico di Riva Marina Specchiolla nel mese di agosto con ospiti e artisti di richiamo. Giunto alla sua quinta edizione, Miss Sarmen Salento costituisce un'opportunità per entrare nel mondo dello spettacolo e per dare un saggio del proprio talento. Con i suoi articolati programmi toccherà le principali località turistiche salentine, i principali luoghi di culto atti a promuovere il territorio in tutte le sue forme artistiche, turistiche e culturali attraverso i propri canali di comunicazione. Un grande evento di cultura e bellezza renderanno la prestigiosa location viva e taglierà il naso di partenza alle giovanissime aspiranti Miss per un lungo tour che le aspetta per la conquista dell'oscetto di Miss Sarmen Salento 2015. L'evento, il cui ingresso sarà presentato dal giornalista Nicolo Russo a guidare e a formare le concorrenti Alessa Macchia, già conosciuta nel 2014 ed eletta Miss Winter Salento di Valenzano Bari, mentre a tagliati per il successo di Rino Litti di San Pietro Vernotico occurerà le acconciature. Sempre a Campo di Mare sarà svolta la serata successiva attraverso un appuntamento all'insegna del fashion e dello spettacolo. Porto Cesario di Lezze sarà la protagonista invece di una serata dedicata al divertimento dove il DJ Elia animerà le principali piazze turistiche della località Salento, riconosciuta a livello internazionale insieme alla Summer Girl ed eleggerà la sua rappresentata attraverso l'appuntamento estivo annuale DJ Elia Summer Show. La SAD Flashback, titolare del concorso, fa sapere che le iscrizioni sono sempre aperte ed è disponibile a valutare tutte le forme di collaborazione con giovani stilisti, location e attività commerciali.